Il 90% degli assistenti sociali italiani è stato vittima di aggressioni verbali, sono stati maledetti o minacciati di comportamenti ritorsivi. Trattandosi di una professione molto femminile, la maggioranza delle vittime è fatta di donne. Molti sono stati aggrediti nei luoghi di lavoro. Un assistente sociale su tre ha paura quando va in ufficio al mattino, ha temuto per la propria incolumità o quella dei propri figli. Sono alcuni dei numeri presentati da Barbara Rosina, presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte e coordinatrice della ricerca Conoscere per Agire, condotta dal Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali, che è stata oggetto di analisi nella tavola rotonda di Dire Donne, moderata dalla giornalista Sandra Zampa. Numeri che rappresentano la spia di una società sempre più aggressiva, secondo Sandra Zampa, che ha coinvolto in una riflessione più ampia sul fenomeno anche Deborah Serracchiani, parlamentare PD, e Silvana Mordeglia, presidente della Fondazione degli Assistenti Sociali. Oggi sono preoccupata, ha detto Deborah Serracchiani, su come sarà attuato questo reddito di cittadinanza, l'entità delle domande, il peso sui comuni, l'attesa, l'incertezza e la frustrazione che potrebbe nascere. L'assistente sociale, ha ricordato Silvana Mordeglia, presidente della Fondazione degli Assistenti Sociali, sconta una certa immagine e per questo anche i media hanno una responsabilità. Bisogna affrontare l'emergenza sociale in cui ci troviamo, che investe in modo particolare gli assistenti sociali, ma che risponde a un'esigenza generale più ampia, perché, come ha concluso la coordinatrice della ricerca, in gioco è il futuro di tutti, non solo della nostra professione.